È un'esperienza che ti modifica, che ti trasforma. Ci sono uomini e donne, più o meno in maniera equivalente. Un 48% donne, un 52% uomini. Riconosci una pluralità di persone diverse, eterogenee, ed è bellissimo. Penso proprio che sia per tutti. Non ci accontentiamo di fare a teatro l'evento principale, il TEDx Bergamo, ma riteniamo che abbiamo una sorta anche di responsabilità nel diffondere questo format al territorio in tutte le possibili esperienze. Quindi ci apriamo alle aziende in particolare perché hanno capito che ha un valore di prestigio, di formazione, di costruzione di team building, di motivazione del personale, un format TED. E quindi noi studiamo insieme alle associazioni, all'organizzazione del mondo soprattutto imprenditoriale, format minori, più asnelli, più facili, che però hanno una certa resa efficace, subito tangibile. Mentre nel mondo delle scuole è il vero successo se le idee vengono ascoltate dai giovani e se insegniamo che tutto è possibile. È una modalità veramente di fruizione, di idee, di cultura in modo molto diverso. Quindi è uno dei nostri target. Ci sono format TED minori pensati proprio per la scuola, quindi TED Education, TED Youth, TED Weekend, non li cito tutti, ma la sostanza è che format TED possono essere spostati sul territorio, a raggera, là dove incontri persone curiose che vogliono sperimentare un modo diverso di diffusione della conoscenza.